Siamo ora in uno dei punti di svolta dell'anno liturgico. Chiudiamo il percorso delle manifestazioni della divinità di Gesù per entrare tra due domeniche nel grande ciclo quaresimale. Queste due ultime domeniche del tempo epifanico sono sempre celebrate come penultima e ultima settimana di questo ciclo, troncando di fatto il resto del percorso, qualunque sia la data in cui cadono, deve essere questo il momento in cui si ferma il ciclo epifanico. E hanno due titoli particolari. Questo di questa domenica è la domenica della divina clemenza, mentre la prossima sarà la domenica del perdono. A primo momento ci sembra una ridondanza. Divina clemenza e perdono ci paiono quasi dei sinonimi. C'è in effetti in comune la volontà di Dio di salvare l'uomo dalle conseguenze del suo peccato. Ma c'è una distinzione. In questa domenica questa azione di Dio la vediamo dal punto di vista di Dio, che non si arrende mai nell'amare l'uomo nonostante tutto. Mentre la prossima domenica lo vedremo dalla parte dell'uomo, che invece si arrende all'amore a lui ha offerto e rinuncia all'idea di poterlo conquistare. Quindi due aspetti di una bellissima realtà, Dio perdona, ma con due accezioni abbastanza diverse. Cominciamo da questa domenica, appunto, che è quella che celebreremo, la domenica della divina clemenza. Il centro della liturgia della parola di questa domenica è lo sguardo di Gesù su quella donna peccatrice. Mentre lo sguardo di tutti si ferma sulla condotta morale della donna, appunto, è una peccatrice, quello di Gesù invece si fissa sul suo desiderio di amare e riconosce in lei per questo l'immagine di Dio. L'immagine di Dio che ama e il desiderio della donna di amare, lei ha molto amato, ecco, rende all'occhio di Gesù questa donna, appunto, immagine di Dio. Sa estrarre, ecco, dalla vita disordinata di questa donna questo concetto di immagine di Dio. Osei anticipa questo sguardo. quello che poi troviamo nel Vangelo. Dio guarda il suo popolo come Gesù, guarda la peccatrice, chiedendo di fare emergere l'amore dalle sue azioni. Egli vuole, infatti, l'amore, non il sacrificio, la conoscenza di Dio, non più degli olocausti. Infine Paolo e i Galati. Paolo ci dice una cosa di una grande centralità. cos'è la salvezza se non il fatto che Cristo vive in me. Questa è la salvezza. La salvezza, quindi, è la ricomposizione dell'uomo nella sua dignità originale di creatura di Dio, come l'abbiamo trovato nel racconto di Genesi. forse abbiamo qualche riminiscenza o qualche conoscenza anche attuale della nostra cultura religiosa. E sappiamo che il Catechismo ci dice che Cristo è il nuovo Adamo. Perché? Perché è l'uomo pieno. E quindi è l'uomo divino, l'uomo della creazione, appunto. Avviandoci alla Quaresima, allora, facciamo questo lavoro. Cerchiamo di sintonizzarci con l'amore di Dio. L'amore di Dio lo incontriamo in tanti doni quotidiani del nostro vivere. Lo incontriamo negli affetti dei nostri cari, dei nostri amici. Ma soprattutto l'amore di Dio lo incontriamo nella sua parola. Allora, per essere capaci di sintonizzarci con l'amore di Dio, cerchiamo allora di conoscerla, di leggerla. Di leggerla anche al di fuori della celebrazione liturgica, magari ritagliando qualche minuto dalla frenesia delle nostre giornate. Credo che sia questo il modo migliore per cominciare a prepararci alla Quaresima.